we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi abbiamo davvero tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e soprattutto questi ultimi giorni di season e sì perché per adesso ragazzi tutto sta andando alla grande si scoprirono tante tante cose con la patch 13.40 alcune ve le ho dette ieri altre ve le sto per dire prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi e guardate che meraviglia un post che sta letteralmente esplodendo su tutti i vari forum dedicati a fortnite e su twitter ovviamente sto parlando di una possibile customizzazione nella prossima season dei veicoli una cosa che è successa anche in questa season ovviamente con l'ombrellino quello che potevamo personalizzare devo dire che la community ha apprezzato tantissimo questo concept io stesso penso che sia una roba fantastica che non gli ci vorrà neanche tanto per metterla in pratica e incrociamo le dita a voi piacerebbe poter utilizzare una macchina tutta customizzata in lobby mentre la prendete fatemelo sapere qua sotto nei commenti andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle nuove informazioni e due dei nuovi file audio dedicati a tutti i pesci che stanno per arrivare non sappiamo ancora la data precisa della quale arriveranno tutta questa nuova serie di pesci ma voglio farvi vedere questo spezzone video intanto e farvi ascoltare un po di audio spettare un po di audio insomma ragazzi ci sono davvero tantissimi effetti anche perché i pesci saranno ottenibili in diverse zone della mappa e in diverse condizioni quindi alcuni di giorno alcuni di notte insomma staremo a vedere e state già vedendo il prossimo argomento una news che arriva direttamente nel reparto dedicato e che potete leggere anche sul sito ufficiale di epic games una nuova cosa sul party royale il discovery shark week 2020 il 10 agosto ragazzi sul grande schermo ovviamente del party royale guarda un episodio in anteprima della shark week su fortnite prima che il re degli squali tigre debutti nella shark week di discovery channel questo 14 agosto guardalo in anteprima su fortnite a partire dal lunedì 10 agosto alle ore 20 per 24 ore l'episodio verrà trasmesso allo scoccare di ogni ora pronto per un tuffo dentro le acque infestate di squali vai al grande schermo di party reale e segui l'indagine del dottor austin gallagher sul misterioso attacco a uno squalo di oltre 4 metri forse è stata una specie sconosciuta agli squali giganti o addirittura uno squalo tigre cannibale quindi ragazzi un'occasione per guardare qualcosa in più e per l'occasione ritornerà nello shop il 10 agosto tutto il set dedicati ha dedicato appunto agli squali quindi fauci comodone il piccone schiaffo dello squalo e tanti tanti altri outfit quindi un'occasione per fare qualcosa di diverso e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ieri ve ne avevo parlato su instagram anche avevo pubblicato qualche video e qualche post ma guardate ragazzi finalmente abbiamo delle informazioni aggiuntive sul comic book quindi sul giornaletto se dovessimo tradurlo in italiano che sarà anche molto probabilmente la la come dire il fulcro dell'evento di questa stagione perché metterà di nuovo in collaborazione diverse case fortnight gli avengers marvel insomma un sacco di roba e come vedete ragazzi anzi voglio io farvelo vedere si è scoperto che questo comic book si potrà trovare nella lobby guardate ragazzi questo spezzone come vedete ancora non si possono vedere le cose che sono contenute al suo interno non si può ancora leggere ma è davvero bellissimo immaginare che molto probabilmente ci starà una storyline dedicata che mano a mano si andrà avanti e mano a mano si potranno leggere le pagine tra l'altro voglio ricordarvi che nella copertina principale quella che vi ho appena fatto vedere si intravede una figura che noi conosciamo benissimo e ovviamente si parla di thor vedete infatti le due immagini messe a confronto il martello è inconfondibile e ci sono tanti elementi che ci fanno tirare delle conclusioni il rainbow bridge ad esempio quindi il ponte quello che collega la terra al regno di thor galactus che adesso vi faccio vedere perché c'entra il comic book e tutto quello che sarà dedicato a tor che appunto potrebbe proprio essere l'evento che ci farà spostare dalla season 3 alla season 4 tra l'altro vi ricordo ragazzi che sono stati trovati anche delle dei nuovi del nuovo location o meglio delle nuove strutture che probabilmente appariranno in mappa come vedete stiamo guardando una spezzone di codice atena apollo maps apollo poi crater 001 ragazzi siamo connessi con l'evento high tower quello di cui vi parlavo ieri sei crateri verranno ritrovati o fra poco arriveranno in mappa ma si parla anche di uno ancora più grande quindi il settimo i sei crateri di cui vi parlo ve ne ho fatti vedere anche ieri ve l'ho fatta vedere ieri questa immagine dimenticate ovviamente la posizione non saranno lì ma voglio farvi vedere anche che nello spettrogramma che abbiamo ascoltato si intravede una figura non è la figura che vi avevo anticipato ieri di grotto ma è ragazzi galactus innanzitutto riguardiamola un attimo bene a full come vedete ci ci è chiaro che sia una sagoma umana o comunque di una persona ed ecco qua è davvero molto molto simile a galactus che ovviamente fa parte dell'universo degli avengers per tutti gli appassionati sanno sicuramente di chi sto parlando e vi ricordo anche che se guardate il cielo ragazzi c'è già un rift ma non sarà l'unico rift che epic games ha deciso di inserire nuovamente nella mappa il primo lo stiamo vedendo adesso e deve essere il rift quello che è apparso a sud della mappa ma sappiamo che apparirà un altro rift ma sopra l'autorità voglio farvi vedere infatti questa immagine che è veramente molto molto interessante allora ho sbagliato a sud esatto guardiamo un attimo dall'alto crack in the sky quindi il rift presente adesso in questo momento è esattamente perpendicolare a rapide rischiose o rapide a riposo come si chiamano adesso la posizione invece dei sei crateri sembra che sia proprio a sud dell'autorità e saranno tutti molto vicini a sinistra invece crater poi è la nuova location quindi quella piccola collina chiamiamola un po così insomma tra foresta frignante e borgo bislacco ospiterà una nuova location che si chiamerà appunto non si sa non si sa ai tower invece che è quella che il nome dell'evento e che vediamo là in basso è il punto in cui apparirà un nuovo rift insomma ragazzi ci sono davvero tantissime cose in cui riusciamo a vedere un po meglio quello che vi ho appena spiegato il che vuol dire che la mappa è pronta ad un altro update e molto probabilmente arriverà prima del termine della season questo però potrebbe essere un problema perché inserire una cosa del genere richiederebbe l'arrivo di una nuova pace per il momento non c'è programmata nessuna pace non esiste una pace 13.50 stanno già lavorando alla pace 14 quindi le opzioni sono due o prolungano la season e fanno un'altra pace ma non sono tanto sicuro o altrimenti chiudono la season il 27 agosto con l'evento e tutto quello di cui vi ho appena parlato lo vedremo inserito nella season 4 secondo me è molto più probabile che sia così insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi nei canali lasciate un bel like e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao